Un momento di confronto e formazione ad Ugento sulla gestione lecita dei rifiuti e sull'attività di indagine attraverso l'utilizzo dei droni. Convegno pensato per chi quotidianamente si occupa della tutela ambientale per conoscere la materia e agire con disinvoltura anche nella disamina dei testi normativi. All'incontro ha partecipato Alessandro Corrias, autore di diversi libri e manuali sulle violazioni ambientali. Il Ministero della Transizione Ecologica, con un apposito decreto, ha dettato delle regole un tantino più permissive per quanto riguarda il recupero dei rifiuti da demolizione. Va approfondito questo tema per rendere noi tutti operatori di polizia locale più aggiornati e comprendere bene quando ci si trova di fronte a un abbandono di rifiuti inerti, appunto come operare nel miglior modo possibile. Gran parte del PNNR è caratterizzato appunto da interventi in natura ambientale e quindi necessita una presenza delle forze di pulizia e delle forze di controllo sia in termini di gestione corretta delle risorse economiche sia in termini di tutela del territorio. Basti pensare che per esempio gli interventi sul 110% hanno portato a un incremento dell'attività edificatoria o di ristrutturazione degli immobili e questo ha determinato anche notevoli impegni nel nostro territorio da partire aziende che poi hanno operato sugli inerti, in materia di inerti eccetera.